Cosa è l'artrite infettiva? L'artrite infettiva, detta anche artrite settica, è un'infezione nel liquido e nei tessuti di un'articolazione. È più comunemente un'infezione batterica, ma può anche essere fungine o virale. I sintomi includono dolore alle articolazioni, gonfiore e febbre e di solito compaiono entro pochi giorni dall'infezione. L'artrite infettiva è spesso causata dall'infezione in altre parti del corpo che si diffonde attraverso il sangue per invadere l'articolazione. Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio, l'anca, il polso, il gomito, la spalla e le articolazioni delle dita. Le persone con articolazioni indebolite, come quelle con una lesione articolare o l'artrite cronica, sono a maggior rischio di artrite infettiva. La condizione è diagnosticata mediante biopsia del liquido articolare e, nel caso di infezione batterica, trattata con un ciclo di antibiotici. Diversi tipi di batteri hanno maggiori probabilità di causare l'artrite infettiva in pazienti di diverse fasce d'età. I batteri bacilli gram negativi di solito causano l'artrite infettiva solo nei neonati e nei bambini piccoli, mentre i bambini più grandi e gli adulti sono più suscettibili ai gonococchi, agli streptococchi e alle infezioni batteriche da spirochete. L'infezione da stafilococchi può colpire a qualsiasi età. I virus che possono causare l'artrite infettiva includono il virus dell'immunodeficienza umana, virus dell'immunodeficienza umana, i parvovirus e i virus che causano la parotite, la rosolia e l'epatite B. I funghi e il Mycobacterium tuberculosis possono causare l'artrite infettiva cronica. Se nota dolore o gonfiore alle articolazioni, deve consultare immediatamente un medico in quanto potrebbe soffrire di artrite infettiva. Quelli con artrite cronica dovrebbero consultare un medico se una particolare articolazione diventa improvvisamente dolorosa e gonfia. Le articolazioni possono essere danneggiate in modo permanente molto rapidamente, a volte in un certo numero di ore, se l'artrite infettiva non viene trattata. Se un medico sospetta un'artrite infettiva, eseguirà una biopsia prelevando il fluido dall'articolazione interessata con una siringa il prima possibile e avvia il paziente con antibiotici. Gli antibiotici saranno inizialmente somministrati per via endovenosa, seguiti da un corso di antibiotici per via orale. Dopo l'analisi di laboratorio del liquido articolare, il trattamento può cambiare in base alla causa dell'infezione. Se un caso di artrite infettiva è batterico, gli antibiotici dovrebbero iniziare a risolverlo entro 48 ore. L'artrite infettiva fungina viene trattata con farmaci antifungini e un'infezione virale di solito si risolve da sola, quindi non è necessario nessun farmaco tranne che per gli antidolorifici. L'articolazione interessata potrebbe dover essere drenata con un ago, un'artroscopia o un intervento chirurgico e talvolta è necessaria una terapia fisica per prevenire la rigidità e mantenere la funzionalità e la gamma di movimento.